Dall'istituzione del Comune Autonomo di Praia Mare ad oggi per ricordare chi ha guidato il paese è il senso che ha ispirato la due giorni di festa a memoria da ricordare in programma nel fine settimana nella città dell'Isola Dino. Nel 1928, con reggio decreto, quella che un tempo era chiamata Praia d'Aieta, fu elevata a comune con il nome di Praia Mare, una data importante per la comunità locale. Antonio Pratico, sindaco in carica, ha pertanto pensato di dedicare alle vecchie amministrazioni e a chi ha lavorato per il bene pubblico a Praia un segno tangibile di riconoscenza. Dal 4 al 5 ottobre, dunque due serate fatte di esposizioni fotografiche e proiezioni video dei tempi che furono, ogni cosa fatta in collaborazione con il Museo Civico e presentata ieri nel corso di una conferenza stampa. Ricordare quelle persone che hanno dato un senso a questo paese, che l'hanno portato a dei livelli altissimi, perché ci sono stati momenti che in questo paese avevamo un'occupazione che si girava intorno ai 2500 persone. Beh, noi non possiamo, la gioventù, la nuova generazione, non può dimenticare queste cose, non può tenere presente soltanto il momento drammatico che in questo momento noi stiamo attraversando in Italia e nei nostri paesi. Noi dobbiamo trasmettere il meglio ai giovani ricordando i saggi di ieri. Tante le ricerche che hanno permesso di ricostruire la storia amministrativa di Praia e scoprire quanto è accaduto nell'arco dei circa 70 anni di politica locale. Abbiamo voluto dare questo segnale riportando alla ribalta personaggi, soprattutto i sindaci, che si sono susseguiti dal 1928, cioè dall'autonomia ad oggi, quindi il passaggio dal fascismo e poi alla democrazia. Abbiamo voluto ricordare questi sindaci che altrimenti una parte dei quali altrimenti sarebbe andata completamente persa. E Praia ha tra questi sindaci persone particolari, curiose, imprenditori, gente che poi se ne è andata all'estero. Abbiamo delle particolarità che possono dal punto di vista della cronaca e adesso della storia interessare.